Cominciamo con i fondamenti Diretto corto al corpo Diretto corto al viso Diretto al viso Diretto al viso Diretto corto al viso Diretto al viso Diretto al viso Diretto al corpo Proviamo qualche mossa più difficile Montante sinistra al viso Montante sinistra al corpo Montante destra al corpo Montante sinistra al corpo Montante sinistra al corpo montante destro al viso, cancio destro al corpo, guarda i cuscinetti, montante destro al corpo, montante destro al viso, aumenta, montante sinistro al viso, diretto corto al viso, diretto al viso, cancio sinistro al viso, guarda i cuscinetti, diretto al corpo, diretto al corpo lancio sinistro al viso diretto corto al corpo diretto corto al corpo montante destra al viso lancio sinistro al corpo diretto corto al corpo diretto al corpo ottimo allenamento comincia coi destri e poi segui i miei comandi sinistri destri sinistri destri sinistri doppi destri doppi sinistri destri destri sinistri destri 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 attacchi alla meva che segnala devo questo che l'incontro del bicentinario con magli gril il primo gennaio qui a philadelphia sarà il più grande evento sportivo nella storia del paese Qua mi sa che sto diventando un uzzio a nessuno, io dovrei essere un bugio. Senza uno sfidante di rango, questo combattimento ha bisogno di una novità. Quindi Apollo Creed, il primo gennaio, darà un'opportunità ad uno sconosciuto locale e farò mettere la sua faccia su questo manifesto insieme a me. Billy Snow. Big Chuck Smith. No, questo nome non mi dice niente. Ecco quello che cercavo. Lo stallone italiano. Guarda qui, è il nome. Apollo Creed incontra lo stallone italiano. Grazie. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Continua a combattere. Mi sa che hai perso questa ripesa. Cerca di prendere fiat alla prossima e colpisci a nuovo è tu. Buona ripresa. Lo stai facendo inviattreggiare. Grazie. Ripresa a due. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Continua a combattere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Continua a sfrancarlo. Comincia ad usare gli 1, 2 al corpo al viso. Sta andando bene. Vai per il colpo finale. Ripresa a tre. 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 Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci E' finita! E' il vincitore per fuori combattimento Rocky Balboa! E' il vincitore per fuori combattimento Rocky Balboa!